Grazie. Buongiorno a tutti, conferenza stampa di Enrico Del Prato, tra 4 giorni si giocherà domenica Parma-Brescia, 36esima del campionato di Serie B. Cominciamo con le domande dei colleghi da parte di Vittorio Rotolo della Gazzetta di Parma. Prego Vittorio. Enrico, buongiorno. Prima della partita con il Palermo il messaggio del gruppo era stato chiaro, ci aspettano otto finali e da allora poi cosa è cambiato? Abbiamo visto una squadra che ha trovato finalmente la giusta continuità. Tanto buongiorno. Il nostro approccio alle partite fin dall'inizio del campionato è sempre stato quello, di andare ad aggredire le partite e cercare di proporre il nostro gioco. E' normale che in alcune partite abbiamo raccolto quello che meritavamo, in altre abbiamo raccolto qualcosina meno. Però adesso mancano tre partite e come quella prima del Palermo il messaggio è sempre quello di trattare ogni partita come se fosse una finale. E' nulla, di lasciare in campo tutto quello che abbiamo e di portare a casa il massimo. Enrico, quanta consapevolezza è maturata rispetto alle proprie possibilità anche di giocarsela? Parlo di play-off, parlo di finale di campionato. Sì, ma noi sotto quel punto di vista non abbiamo mai avuto un dubbio sulla squadra, su quello che proponavamo in campo. Sappiamo di essere una squadra forte e prima di parlare di play-off adesso mancano ancora tre partite e quindi è importante cercare di portare a casa il massimo punteggio possibile da queste tre partite. E dopo vediamo dove arriveremo e vediamo quello che è. Enrico, ti chiedo anche un commento sul Brescia che fino a qualche settimana fa sembrava per così dire spacciato, adesso ha infilato una serie di risultati utili. E' un avversario non facile, certamente. Sì, il Brescia è un avversario forte. Sinceramente non so quali siano state le cause del campionato comunque prima che ha fatto perché sono una squadra di qualità. E' una squadra che si deve salvare, perciò sarà una partita difficile. In Serie B tutte le partite sono così, a maggior ragione adesso che affrontiamo una squadra che sta in salute, sarà una partita, una battaglia. Però noi ovviamente come abbiamo sempre fatto non ci tiriamo indietro e tutti insieme cercheremo di portare a casa il massimo. L'ultima da parte mia, un po' a livello personale sulla tua stagione, ho passato in rassegna le statistiche. 31 presenze, 30 da titolare. Il mister ti ha dato fiducia. Sì, io sono contento che il mister mi abbia dato fiducia. Arrivati a questo punto della stagione, ma anche fin dall'inizio dell'anno gli obiettivi personali non mi interessano, ma in piccola parte. L'obiettivo importante, l'obiettivo comune. E quindi io mi metto a completa disposizione del mister per soddisfare un po' le sue richieste e dare una mano ai miei compagni quando scendo in campo. Perciò, ripeto, l'obiettivo è quello di squadra e poi che faccia cinque partite, tre, dieci, non mi interessa relativamente. L'importante è quello di raggiungere l'obiettivo comune. Passiamo alle domande di un altro collega, Guglielmo Truppo, Parma Today. Sì, buongiorno. C'è la consapevolezza, soprattutto in te, che sei uno dei veterani, malgrado tu abbia 23 anni, c'è la consapevolezza di giocarsi un obiettivo importante, di lottare per qualcosa di importante? Buongiorno. Sì, assolutamente sì. È vero che sono 23 anni, sono qua da due anni, però comunque mi sento, dopo le tante partite che ho fatto, le presenze che ho fatto, mi sento comunque un riferimento all'interno della squadra ed è normale che l'obiettivo comune, come dicevo prima, c'è e abbiamo la consapevolezza, ma non soltanto avendo dato la dimostrazione comunque in queste ultime 4-5 partite, ma fin dall'inizio dell'anno di cercare di portare a casa qualcosa di importante. Siamo una società ambiziosa, una squadra ambiziosa e appunto non ci nascondiamo e quindi cercheremo tutti insieme, dai primi 11 che partono, quelli che entrano, il mister, lo staff, tutti quanti insieme ai nostri tifosi che ci spingono, di portare a casa l'obiettivo, di vincere le partite, di finire bene il campionato, perché prima di parlare di play-off purtroppo c'è da finire il campionato, ci sono le ultime 3 partite da fare bene e dopo vedremo dove saremo arrivati e continueremo il nostro percorso. Però nella vostra testa c'è un po' il pensiero magari di arrivare, di centrare questo quarto posto perché magari mi permette di saltare il turno preliminare, ci state un po' pensando? Guarda, non è veramente un giro di parole o altro, la nostra concentrazione è sulla partita col Brescia, adesso pensiamo soltanto a quello e a prendere, come ho sempre detto in ogni conferenza stampa, in ogni intervista, di prendere una partita alla volta perché è inutile parlare di arrivare quarti, quinti, terzi. Adesso fra tre giorni abbiamo una partita importantissima col Brescia e è normale che più in alto arriviamo meglio è, però non stiamo facendo calcoli, pensiamo soltanto a noi stessi e a portare a casa più punti possibili in queste ultime 3 partite che ci mancano e poi dove siamo arrivati vedremo. Perciò l'ultima domanda da parte mia, è un po' un derby per te? Beh, sicuramente è un derby, io appunto sono cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, sono bergamasco perciò è come se fosse un derby per me, è a tutti gli effetti un derby, però nulla dai, non cambierà rispetto alle altre partite, non cambia l'approccio, la determinazione che ci metteremo e che ci metterò io, non cambierà. Giancarlo Ceci Tu giochi abitualmente qui come terzino destro, usiamo il difensore di destra, però quando hai iniziato qual era il tuo ruolo? Allora, io ho iniziato a Livorno e ho sempre fatto il terzino destro, poi qualche partita ho giocato da, dipende un po' dal modulo, poi posso giocare nei tre difensori come Braccetto a destra, ho fatto qualche partita a centrocampo, ma poche, diciamo la maggior parte delle partite l'ho fatta a destra, o da terzino destro oppure da terzo, da Braccetto a destra. Ecco, ti andrebbe bene anche di giocare come quarto, cioè secondo centrale, perché domenica ci sono delle grosse assenze nella parte centrale della difesa. Sì, ma è un aspetto che sinceramente mi interessa relativamente, perché io mi metto a completa disposizione del mister a destra, da centrale, abbiamo delle assenze, ma l'abbiamo dimostrato durante l'anno che possiamo fare affidamento su chiunque, non mi interessa poi scendere in campo con Cobaut, che è qualificato, Osorio, Circati, Balog, a destra, a sinistra, sinceramente è una questione che mi interessa relativamente. Posso farlo, perché comunque l'ho fatto altri anni, il mister mi prova, ma come mi ha già provato in altre settimane, perché comunque per caratteristiche è un ruolo che potrò fare, ma in questo momento non mi interessa il mio, mi interessa l'obiettivo di squadra, di scendere in campo. È vero, abbiamo fuori Elias, ma la fase difensiva non è una fase difensiva che si fa soltanto con quattro difensori, con io o un altro, è una fase difensiva di squadra, i centrocampisti devono aiutare, gli attaccanti devono aiutare, gli esterni dalla panchina, e quindi è un aspetto che mi interessa relativamente. Sì, però è un conto giocare sulla fascia, è un conto giocare centrale, doveva marcare un uomo. Sì, certo, poi ovviamente dopo, quando si presenterà la partita, vedremo, mi metto a, come ho detto prima, a completa disposizione del mister. Ho la fortuna di avere la possibilità di giocare da centrale a destra, però non è un problema, come ho detto prima, che mi pongo in questo momento. Mi interessa l'atteggiamento che ha la squadra, l'atteggiamento mio personale, di compattezza, di scendere in campo dando il massimo. Poi se sia a destra, a sinistra, a centrale, va bene, ma non mi interessa in questo momento. Una cosa che è importante, secondo me, visto che questa difesa sarà una difesa inedita, e in passato è stata cambiata anche qualche volta, ma chi chiama il fuorigioco? Perché ho visto che adesso ne fate pochi di fuorigioco. No, non c'è un addetto al fuorigioco. Noi lavoriamo appunto come reparto, siamo in quattro dietro e cerchiamo col mister, abbiamo sempre lavorato di linea, e quindi non c'è uno che chiama il fuorigioco o si alza di più o si abbassa. Diciamo un lavorare di reparto tutti e quattro insieme è nulla, è un lavoro di squadra. E questo spiega anche qualche incertezza in passato? No, le squadre che affrontiamo hanno tutti dei punti deboli, dei punti forti, e ovviamente all'inizio dell'anno, essendo l'allenatore nuovo, essendo una squadra nuova, c'è bisogno di lavorare, e nulla. Adesso stiamo cercando di lavorare al massimo, di reparto. Come ho detto prima, non è soltanto un discorso di difesa dei quattro difensori, ma comporta anche un atteggiamento da parte di tutta la squadra. E poi quelli che sono stati gli errori in precedenza ormai sono accantonati, non ci interessano più. Adesso pensiamo alle prossime partite. Per questo ti aspetti un breccia diverso rispetto a quello che avete affrontato l'andata? Beh, sicuramente rispetto all'andata. È una squadra che adesso è in gran salute, viene appunto da quattro risultati utili consecutivi, ed è una squadra che, come ho detto prima, non so per quale motivo sia adesso in questa posizione, perché ha sempre dimostrato durante l'anno, soprattutto nell'ultimo periodo, di essere una squadra forte e insidiosa. È andata a vincere a Reggio Calabria, è una squadra che è in salute, perciò sarà una partita molto difficile. La parola a Lorenzo Fava di Sport Parma. Ciao Enrico, buongiorno. Hai passato il giorno d'andata a fare gol, quindi ti sei specializzato da attaccante, tre reti, su tra l'altro sei tiri segnati, ho visto anche le statistiche. Invece nel giorno di ritorno stai facendo il difensore, però c'è anche chi sostiene che tu possa fare ottimamente il centrocampista. Ho parlato con Vincenzo Piccolini, che dice che saresti un top player davanti alla difesa. Tu come la vedi? Intanto buongiorno, colgo l'occasione per salutare Vincenzo Piccolini. Sarò ripetitivo, come ho parlato prima. Sì, ho fatto durante la mia carriera, soprattutto nel settore giovanile, il centrocampista. Però veramente, tra l'altro non so per quale motivo adesso debba spuntare fuori il ruolo del centrocampista ora, perché comunque l'anno scorso ho sempre fatto il difensore, quest'anno ho sempre fatto il difensore terzino, o centrale, ho braccetto nei tre l'anno scorso, perciò non so per quale motivo adesso. Sinceramente non interessa a me, non mi interessa. Continuo a rispondere a quelle che sono le richieste del mister, poi ovviamente mi metto a sua disposizione e cerco di dimostrare poi scendendo in campo. Senti, secondo te, in questo continuo spostamento di ruolo, non mi riferisco soltanto a te, ma anche ai tuoi compagni, questa duttilità, questa versatilità, può anche essere un'arma a doppio taglio, a volte svantaggiosa, cioè da un lato consente di giocare molto di più e in più ruoli, insomma se uno poi ha le tue caratteristiche, anche quella di farsi trovare sempre pronto, però può essere anche un... No, beh, per quanto riguarda il mio caso, io ho sempre giocato a destra, a parte qualche spezzone di partita che ho fatto da centrale, forse con il Cagliari, mi sembra, sì, ma ho giocato 15-20 minuti lì da centrale, basta. Per quanto riguarda poi il fatto di giocare in diverse posizioni, secondo me è un vantaggio, perché prima di tutto non dà dei punti di riferimento agli avversari, perché un conto è avere un certo tipo di giocatore sull'esterno, un altro conto è avere uno magari più tecnico, uno con più forza, perciò magari a partita in corso, questo può creare degli svantaggi agli avversari, perché non sanno come venirti a prendere, magari uno imposta la partita su un certo tipo di giocatore, e poi gli viene cambiato. E poi anche a livello personale, secondo me è una cosa importante, perché dà l'opportunità ai ragazzi di capire come muoversi in varie zone del campo, quindi io non la vedo una cosa negativa, comunque un'arma a doppio taglio, anzi, è un vantaggio, è un aiuto che si dà al giocatore, perché si dice, sei bravo in questa posizione, puoi ricoprire anche questa posizione, e in più verso gli avversari, è una cosa che ti mette un po' tituante, perché parlando anche nel mio caso, magari quando vedo un attaccante e durante la settimana lavoro su di lui, poi mi viene spostato, mi viene messo in campo un altro giocatore, diventa difficile prendere le misure. Mi hai convinto. Sentendo di parlare si capisce che sei uno dei leader dello spogliettoio, uno dei senatori, quindi non è un caso, poi anche che tu abbia questo soprannome di professore, no? Questo non lo sapevo, non so se ne l'avete dato voi. Almeno in nazionale, dicono. Ah, bene. Sì, in nazionale, sì. Sì, no, ma è vero, siamo un gruppo, è un gruppo giovane comunque, che sta lavorando tanto, si impegna ogni giorno in allenamento, e questo, diciamo, quello su cui dobbiamo puntare, poi ovviamente dopo le qualità dei singoli vengono fuori, l'impegno, la determinazione, la cosa secondo me è principale in ogni aspetto, in ogni lavoro, non soltanto nel calciatore, anche a fare qualsiasi cosa è la cosa fondamentale, e sotto questo punto di vista la squadra ha sempre dato delle ottime risposte. Ma a proposito del soprannome, se ci vuoi chiedere, eh, se ci vuoi chiedere, ti voglio chiedere, se ci vuoi spiegare come nasce, magari dalle tue caratteristiche, e poi anche relativamente a questo gruppo, visto che c'è per te il derby, Brescia-Bergamo, come scalderà gli animi dei tuoi compagni per fargli capire che, insomma, è una rivalità che tu senti sicuramente. Sì, no, vabbè, il soprannome credo che nasca nella nazionale, in under 20, mi sembra, perché comunque in quell'annata giocavo, c'era il mister Nicolato, c'era Pinkolini, che era parte dello staff, Gasparetto, e nulla, siccome giocavo da difensore, era quello, diciamo, che si occupava un po' dell'impostazione del gioco, ma hanno dato questo soprannome per questo motivo qua, poi, essendo uno abbastanza preciso, così, penso che deriva da quello. E niente, poi, per quanto riguarda invece la partita col Brescia, i miei compagni sanno che sono di Bergamo, sanno che, che appunto, sono cresciuto nell'Atalanta, e però non c'è bisogno di questo per motivarli. Sappiamo già l'importanza della partita, sappiamo che affrontiamo una squadra forte e quindi non ci sarà bisogno di grandi discorsi, sappiamo quello che ci mancano tre partite, tre finali, come abbiamo detto, e quindi ne prenderemo tutte come se fosse una finale e cercheremo di portare a casa il massimo. Vittorio Rotolo, poi chiudiamo. Enrico, non c'è bisogno di tante parole per la partita col Brescia, però, forse non c'è neanche bisogno di invitarli, però i tifosi ancora una volta avranno una parte importante e i tifosi sono ancora più vicini alla squadra, la percepisci questa vicinanza, questa carica. Sì, sì, assolutamente sì, poi quando quando si scende in campo si vede il muro giallo-blu comunque dietro di noi è una cosa che spinge tanti, spinge i giocatori e aiuta tanti ragazzi e tanti miei compagni e anche me stesso quando si vede l'attaccamento che hanno i tifosi verso la squadra è una spinta davvero importante ed è per questo che secondo me le prossime partite soprattutto quelle davanti ai nostri tifosi questa col Brescia e l'ultima col Venezia saranno gare importanti dove sarà bello dare un segnale dove tutta la squadra insieme ai tifosi insieme allo staff insieme a chi sta in panchina agli undici che partono tutti insieme sarà un blocco unico che cercherà di andare a prendersi questi playoff a prendersi il posizionamento migliore in classifica e poi speriamo di arrivare più in alto possibile Enrico quanto pesa nello spogliatoio avere giocatori di esperienza di una certa esperienza di classe Buffon Vaskets per un giovane secondo me non è un peso è un aiuto in più noi dobbiamo con umiltà cercare di prendere il massimo da loro perché sono campioni hanno fatto forse le partite più importanti che ci sono nella carriera di uno sportivo e quindi noi dobbiamo avere l'umiltà di ascoltarli e di prendere il massimo da ognuno di loro loro sono persone che ci aiutano tanto ci danno consigli motivano e quindi è importante avere in squadra Bene grazie a tutti concludiamo qui buona giornata e buon lavoro grazie a tutti 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 grazie a tutti